Crisi del settore o contrazione del mercato? Allora, quello che stiamo vivendo nel 2022 inerente alla vendita di bicicletta è un attestamento dei valori di vendite pre-pandemici durante il 2020 e il 2021 infatti, lo ho detto fino alla nausea i valori in Italia in particolare ma anche in Europa, ma direi nel mondo delle vendite di biciclette sono schizzate alle stelle che cosa è successo? è successo che a fronte di una enorme domanda i prezzi sono schizzati alle stelle la pandemia ha bloccato parte della catena produttiva si sono accumulati ritardi poi pian piano questi ritardi hanno permesso a tutti gli acquirenti di avere la propria bicicletta quindi il mercato si è saturato non solo si è saturato molti di quelli che hanno comprato a seguito della pandemia una bicicletta l'hanno rivenduta una volta che la pandemia è terminata quindi si è bloccato l'acquisto del nuovo e si è saturato il mercato dell'usato quindi oggi per fare ottimi acquisti lì si possono fare semplicemente andando a cercare la bicicletta dei propri sogni sull'usato e vi assicuro che si trovano delle grandissime occasioni diciamocela tutta quello che è successo nel 2020 e nel 2021 nessuno poteva prevederlo questo ha fatto trovare impreparati molti produttori che poi hanno reagito ma con un po' di ritardo un ritardo che oserei chiamare fisiologico con nuovi stabilimenti, nuove linee produttive addirittura c'era talmente tanta richiesta in quegli anni che ne ho già parlato in altri video hanno, come posso dire non so qual è il termine giusto però hanno invertito la delocalizzazione cioè hanno riportato nel territorio chiamiamolo così natio le linee produttive che invece erano dislocate in oriente perché la manodopera costava meno la produzione costava meno tutto costava meno il punto è si può parlare di vera crisi o semplicemente di un settore che si sta riorganizzando dopo le montagne russe della pandemia allora partiamo con il dire che nessuno poteva prevedere quello che è successo nel 2020 e nel 2021 ed è altrettanto vero che nessuno nemmeno io che non conto un cazzo come dicano in Francia siamo in grado di vedere quello che accadrà nel breve figuriamoci nel medio periodo quindi è estremamente difficile fare un'analisi è estremamente difficile dire se sia una contrazione dovuta all'aumento dei prezzi dovuta al mercato che è saturo o se è veramente una crisi non lo sappiamo quello che posso dirvi è che molti acquirenti si sono spostati sul mercato dell'usato quello che stiamo osservando è che il mercato saturo delle biciclette nuove i prezzi sempre più alti e un mercato dell'usato completamente inondato sta mettendo in difficoltà la rete classica di rivenditori un altro aspetto che diciamo così avvalora questa tesi è che grandi brand stanno pian piano acquisendo le catene distributive per arrivare più vicini ai rivenditori per andare direttamente sul territorio insomma è un settore molto fluido molto liquido è difficile capire quello che sta succedendo non è che sia poi così semplice quindi io non lo so se il settore del ciclismo è in crisi o sta vivendo semplicemente una contrazione per un nuovo riassestamento ok basta con questo pippone fatemi sapere che cosa ne pensate noi come sempre ci vediamo al prossimo video buonanamente alla prossima ciao